Ballottaggio del 24 giugno, il sindaco uscente Bruno Valentini viene sfidato dall'altro candidato, quello del centro-destra, Luigi De Mossi. I numeri parlano di un 27,40% contro un 21,70%, punto più, punto meno, non ricordo esattamente. Facciamo questo approfondimento stasera... 24, 21 sportelli. È vero, è vero. Facciamo questo approfondimento con David Taddei, il punto della situazione... Buonasera. Buonasera, David. Qual è il punto della situazione per quello che riguarda i movimenti? Sappiamo che entro sette giorni andranno dichiarati eventuali apparentamenti... Molto prima, molto prima. Già entro domenica sera dobbiamo avere gli apparentamenti fatti, se ci saranno ovviamente. Quindi sono grandi movimenti in corso, perché ormai mancano pochi giorni e ormai si sa tutti che c'è in corso una trattativa per mettere insieme le liste di Bruno Valentini con la lista per Siena di Pierluigi Piccini per tentare di fare un fronte comune contro l'avanzata del centro-destra. Tra l'altro una prima apertura venne fatta proprio da Pierluigi Piccini, ospite durante la nostra lunga diretta, fu lì la prima uscita di Piccini che diceva che mai avrebbe potuto, portò vari esempi anche sul piano nazionale e disse che mai avrebbe potuto cercare l'alleanza con il centro-destra, sulla base di tutta una serie. Poi nel corso di un'intervista ha tornato un po' indietro, ha detto che tutte le porte sono aperte, poi chi ha seguito un po' le cronache di questi giorni ha visto che Piccini ha ricevuto varie telefonate, ha fatto nel suo diario una battuta dicendo mi hanno chiamato esponenti nazionali del centro-destra, ma non De Mossi, voglio parlare solo con De Mossi, poi De Mossi ha chiamato Piccini, Piccini e i suoi rappresentanti si sono incontrati anche con gli omologhi di Valentini e quindi la cosa è in corso e al di là delle dichiarazioni ufficiali negative o positive che potete aver sentito in questi giorni e che escono ripetutamente o sui social o sui giornali, la trattativa si concluderà probabilmente sul filo di lana, quindi dovranno aspettare ancora un giorno o due per avere la certezza assoluta e ci sono delle buone possibilità che vada in fondo, ma anche un po' di controindicazioni. Quali sono le controindicazioni? Le controindicazioni sono che dal lato ovviamente delle liste di Valentini è che fare entrare una nuova lista comporta una diversa distribuzione dei seggi nel Consiglio Comunale, ho provato a fare delle simulazioni, ipotizziamo ovviamente un'ipotesi che Valentini vinca o possa vincere senza Pierluigi Piccini, in quel caso il gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale è composto di 20 consiglieri, 13 andrebbero al PD e 7 alla lista del Sindaco in campo, se invece fanno entrare nella coalizione con un apparentamento e un atto proprio ufficiale, anche la lista di Pierluigi Piccini per Siena, la distribuzione di questi seggi cambia perché viene fatta in base al peso specifico che ogni lista ha avuto e quindi avendo la lista di Piccini, l'aggiunto del primo posto e avendo più o meno gli stessi voti del PD, i consiglieri comunali sarebbero distribuiti diversamente, sarebbero 8 del PD, 8 della lista per Siena di Piccini e 4 per in campo, è ovvio che i 5 che restano fuori del PD e i 3 che restano fuori della lista in campo rispetto alla precedente configurazione, proprio contentissimi non sono di restare fuori. Comunque i conti non sono così banali, andranno fatti sicuramente… Esatto, e poi considerate che comunque una lista di Piccini che è il primo partito a Siena, anche se Piccini ha dichiarato che vuole parlare soprattutto di programmi, è evidente che voglia una rappresentatività in giunta, penso pari o quasi pari al PD, così come avviene il Consiglio Comunale, quindi vorrebbe dire dare 3, 4 assessori a lui, non credo che tutti siano di questo avviso. No, penso di no e tra l'altro viene fuori una situazione analoga a quella che è successa a livello nazionale tra la Lega e i 5 Stelle e poi alla fine. Se posso essere sincero parlando a titolo personale e per la mia esperienza personale, io sono stato a fare il portavoce di Maurizio Cenni e me lo sono trovato il Piccini all'opposizione dal 2006 al 2011, potresti scegliere, preferirei averlo con me che se i banchi dell'opposizione. Conosciamo il personaggio, quindi sappiamo che dà del filo da torcere, è normale. Preparata, competente, sa di quello che parla, quindi ti mette molte volte in crisi. Dà del filo da torcere, quindi meglio averlo come amico che come amico. Io potessi scegliere, lo vedrei più volentieri nei banchi della maggioranza che della minoranza, vediamo chi saprà corteggiarlo meglio. Poi ci sono tutta una serie di appelli che vengono lanciati a partire da ieri, ha cominciato Riccardo Nencini che da Firenze ha chiamato i suoi, i suoi che ricordiamo ufficialmente su Siena sono gli appartenenti alla lista, la Martinella 1884, pari a 170. Non sono i voti 1884? No, i voti sono 170, pari allo 0,68%, l'ho imparato perché è da ieri che studio. Però i socialisti anche attraverso Del Ciondolo, proprio in questi giorni, hanno anche loro chiamato alle armi tutti gli appartenenti al Partito Socialista e per dare sostegno a Valentini. Penso che l'appello di Nencini sia rivolto più in generale ai socialisti, a coloro che hanno fatto parte di questa compagine e che poi si sono divisi in vari gruppi, in vari partiti o movimenti o liste. In questo caso ce ne sono diversi, per esempio nelle liste di sportelli, di persone che sono appartenute o appartengono ancora a quell'area e quindi credo che non si riferisse solo ai 170 voti della Martinella, ma credo parlassi soprattutto anche a queste persone. Certo, che sono poi quelle che nelle anni hanno portato avanti l'idea socialista. A livello così ideologico dovrebbe nascere la grande coalizione che mette un'argine all'ascesa del centro-destra per non consegnare la città al centro-destra. Che poi questo argine venga su davvero o non abbia qualche falla un po' grossotta. Esatto, anche perché ricordiamo, va ricordato anche ai telespettatori che lo sanno, non ne abbiamo parlato a lungo, però si sta creando una situazione dove il candidato Massimo Sportelli, che ha preso poco più del 21%, racchiude diverse liste che hanno diverse anime. Quindi andiamo da… Ho sbagliato io prima, è Demostri al 24% e Piccini al 21%. Ok, siamo preparatissimi sui numeri. Diciamo che queste lunghe maratone ci hanno dato un po' alla testa. Comunque dicevamo, il gruppo di Sportelli racchiude diverse anime, quindi non è così banale e scontato che si possa appoggiare Valentini, perché forse ci sarà una bella volontà di andare invece verso la destra. Questo si diceva fin dall'inizio, che le liste che fanno riferimento a Massimo Sportelli, nonostante lui dica che resteranno unite, è molto probabile che si dividano, anche perché ci sono all'interno sensibilità diverse proprio a livello personale, le persone che non amano questo o quel candidato e quindi diventa poi difficile tenerli uniti sotto un'unica bandiera. Esatto. Di sicuro una buona parte di Sportelli andrà a finire a Demostri per propria estrazione politica pura. C'è la presenza di Eugenio Neri, la presenza anche di tanti soggetti della Lega, ci sono diversi… Esatto, questa parte qui che è legata a Sportelli è molto probabile, se non sicuro che confluisca sulla candidatura a Demostri, Eugenio Neri sui social l'ha già detto apertamente. Beh, direi. Che bisogna votare Demostri. Punterà sicuramente a non far vincere il secondo ballottaggio a Valentini, perché insomma la prima volta ci ha battuto… Ha perso per 900 voti, è stato… Per pochissimo, è stato molto bravo, però di fatto… Quella volta che ha dimostrato che il Comune di Siena è diventato, come si dice, contendibile, non è più un feudo privato del centro-sinistra, ma diventa un terreno sul quale può correre bene e con successo anche il centro-destra. Il tema è soprattutto questo e l'incognita vera, oltre a quella dell'apparentamento Lasse-Valentini-Piccini, è sicuramente cosa faranno i 5 Stelle, perché se guardiamo il numero dei votanti si capisce che i 3 mila voti che mancano, probabilmente una buona parte è dovuta al 5 Stelle, ai grillini che in parte sono andati al mare, non su Marte come scherzava Furiozzi, ma al mare sì e non sono andati a votare. E al mare secondo me andranno domenica 24 per il ballottaggio gli elettori di Fucito, quindi Casa Pound e gli elettori di Sinistra Persiena a potere al popolo, quindi Alessandro Vigni. Più vicini in questo senso di quanto vogliono sembrare? Ci vedo di più quelli di Persiena e di potere al popolo, al mare, mi sa che Casa Pound li troveremo senza apparentamenti, ma li troveremo dalla parte del Demossi, la ribidine di mandare a casa il PD, comunque è sempre forte, anche se è un PD ormai ridotto ai minimi termini. Direi di sì, direi di sì. Bene, allora il nostro primo approfondimento si conclude qui, ci potrete seguire nei prossimi giorni con ulteriori novità, indiscrezioni, curiosità per arrivare al ballottaggio. Il lunedì prossimo ci rivediamo con Eora, per fare il punto sull'ultima settimana che ci separa da questo ballottaggio incerto e appassionante forse come mai è stato prima di adesso. Più sicuramente delle elezioni, del primo turno. Anche nel 2013 nessuno pensava che poi davvero Eugenio Neri riuscisse a recuperare così tanti voti e arrivare a un soffio dalla vittoria, questa volta invece con tutti ben determinati e convinti, il centro-sinistra se non sta attento questa volta ci lascia le penne. Diciamo che dovrà dimostrare il candidato Valentini di avere un ottimo voto.